ricordatevi sempre di andare a lasciare il like ai video su youtube ragazzi dottor la bustina dalla regia la bustina è arrivata l'informazione di servizio dalla regia la bustina la mod è arrivata dalla mod sono tolto le muta no i calzetti i calzettoni di natale but la nell'acqua arriva intrattenete la chat grazie but la bustina brodino l'analcolico venale che fa vomitare segui le live di storm player su twitch tv oppure ritrova i video su youtube gli ultimi video caricati sono urc gran turismo 7 e micro andate a vedere su youtube cercate umberto lomascolo storm player e se il video vi è piaciuto mettete like commentate condividete mi raccomando fate i bravi ma non troppo sono già arrivato ci metto un attimo come cazzo sono entrato io scusa ma che sotto queste macchine qua 12 12 siamo professori stanno non è che ha messo il turbo per che tu sei capace facciamo queste queste gare così col turbo attivo ci divertiamo tamponata uno fortissimo guarda come stanno spingendo chi è il francese lo sapevo guarda 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 di questo ma che sta succedendo delirio a las vegas ho girato ma scusa ma io volevo vedere uno che prendeva la penalità peppe ma che cazzo di l'ho via fa senza penalità solo il taglio nooo non ci credo donna il panino a questo li abbiamo fatto al panino l'abbiamo chiuso oh vanni come si trova all'agio allegro boh settima posizione aia aiuto nooo volevo buttare quello fuori strada non stavo cavendo un cacchio sono passata uno che mi voleva fare il pacchetto peppe vai dietro vai mangio la mia polvere pensate che c'è stefano davanti a te da fianco ho visto ho visto stefanino stefanino togliti della minchia oh oh che cazzo mi sta spingendo stefanino oh stefanino no 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 questa te la faccio pagare oggi vanno tutti pazzi non so perché sabato tossico il sabato si ma no io ho sto pirlone guarda sto portoghese è qua la macchina portoghese arrugginita oh che è qua oh oh nooo Gomez di merda ma ma a cosa serve la trasparenza? ora dobbiamo aggiustare qualcosa che non l'ho messa io e la dobbiamo aggiustare questa cosa stava uno bloccato in mezzo alla strada e lo sono andato sopra dobbiamo aumentare il ghost forza beh che dici aiuto ho parcheggiato ragazza che appeghi il gelato parcheggio perfetto mannaggia hai buttato fuori strada uno statunitense giallegro è finito se sto fatto io cosa? i due spagnoli questi stavano litigando li ho lasciati fuori alla fine ho sentito lo sentito pantura arriva Clint Eastwood ragazzi se ad un po' andata uno malissimo tu tu senti sei il francese che mi vuole superare sta spingendo pure, guarda guarda, te ne puoi ristrare, bravo, così bravo, continua così bravo ma quello che andava dietro di me è arrivato molto più forte guardalo, guardalo, guardalo ma guarda delirio ma che sta succedendo, guarda, ho 12 macchine hanno sul passato questo pirlone Peppa, hai fatto girare qualcuno no, stavano facendo girare a me ma questo pirlone qua che sta davanti a me lo salvo grant beccalo, beccalo ma poi lo butto fuori becca salvagrana furtivo ma Tonno è di c***o di notte ma che è? vai, ti spiego io, vabbè vai, vai questo furtivo di merda occhio a questo statunitense, Vanni, tu pensa agli statunitensi sì, ora c'è stata una botta guardalo, guardalo, con la viper mi sta in c***o, mi sta in c***o oh, scusa ho sbagliato no, bianchi si incastra del dito all'analogico ho girato dentro il volere attenzione a furtivo con 9 secondi penalità perché mi ha buttato 8 mila volte 9 secondi, mamma mia che ha fatto il kamikaze in questo giro? sì il mese è prossimo, lì guarda, guarda ma vedi che stanno combinando, vedi? guardali però ha buttato filigrana fuori là filigrano? a me guarda, pure a me, guarda, guarda, guarda tua nonna lurida ma vedi, ma che c***o di gioco stiamo giocando? si gira Alberto, si gira Pepe, tutti è normale, cioè quel smicchione che... è quello con 9 secondi penalità, va avanti, guarda no, no sono passati a tutti e due li sono passati, raga a tutti e due peggio mamma mia che curva di m***a qua ma vedi, piuttosto se ne vanno fuori strada, ma mi... basta che ti buttano fuori chi era? salvadanaio? si a me va bene, vabbè, ogni tanto succede salvadanaio salvadanaio stanno filigrana no, 500 secondi di penalità no, salvadanaio da sola, da sola se girate, che fate, dai, uffa te n'affanculo, salvadanaio stefanino tra i due litiganti, il terzo godelo, sappiatelo infatti, tutti e due fuori strada se ne sono andati oh, vedi questo, come arrivano vedeli come arrivano, vedeli come arrivano i kamikaze arriva non ci credo tarcinella era no, non è tarcinella no, non è tarcinella cosa hai detto patan-tan attenzione riesco a spuntarla stavolta in seconda posizione uff, delirio queste gare, ragazzi devo solo capire, cronologia chat devo vedere qualcuno da buttare fuori salvadanaio a casa la selezione adesso, il giudice sta parlando per il momento solo lui ha fatto il vincchio la sentenza ho visto un pirlone che stava andando contromano se riuscite a capire chi è così lo buttò fuori prima che comincia la cara allora si chiama, mi sa, Joe Allegro nooo ho già una tamponata qua ci sono dati se io, ehm il signor Alberto pensare che non vede il VR mi ha frenato mi ha inchiorato arriva in ritardo la VR infatti è un po' lento è proprio per i miei gusti almeno, che è stato passato è una sportellata normale si, ci sono i normalisti on insegna mi stacco più tardi mi buttò finché ha staccato lui tardi di questo scema signor Sarcinella dimmi Sulla tua sinistra Va va Ma sei però la la me la botto La botto No No io non sono stato io Noo Ma che è sempre io solo Let's go Che posto è andata raga Io Io sto pedinando Giolegro che lo devo superare alla fine Ah è finito Andiamo Andiamo di nuovo sul podio Andiamo di nuovo sul podio Però io sono stato corretto questa partita Eh No No Io ce l'avevo Io ce l'avevo questa scena davanti agli occhi Allora sta un player va di fianco Ad Albert e gli fa Occhio sinistra Ma Ma ero davanti già Ah poi lui mi ha toccato probabilmente No Di fianco Praticamente stavate di fianco In quelle curve Leggermente fastidiose Che stanno appena dopo l'inizio Eh lo so Per la Alberto stava andato dritto Tu hai girato a destra per fare l'inizio della curva Tu me l'hai portato a un lato Vabbè ma puoi capire Alberto che la è difficile Non l'ho fatto apposta Puoi capire Lo puoi capire no? Certo Ma sentilo Metti pronti La 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 Grazie a tutti